Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per andare a giocare con solo lo Spass, il nuovo Spass. Ho già fatto un video ieri, è tornato lo Spass, non proprio come lo conoscevamo, quindi proprio per cui l'ho detto nuovo. Quindi recuperatevi il video ieri che lo abbiamo trattato un po' più nello specifico, abbiamo visto le nuove caratteristiche, come funziona, dove e come trovarlo. Oggi invece faremo totalmente solo e soltanto una challenge con le girls, col team delle girls e potrò utilizzare solo lo Spass. C'è in diverse rarità, io cercherò sempre di potenziarmelo a leggendario, ma posso utilizzare solo lo Spass e vediamo che succede. Prima di continuare il video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGY, non ti tutto grande, tutto attaccato nei costi oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzi, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre sul supporto a un creatore ci sia scritto GGY, non ti tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie però di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare il video. Mi raccomando sono due game, quindi non perdetevi, guardatevi tutti e due perché soprattutto il primo è stato clamoroso. Ora vi lascio alle partite, buona visione. Ok ragazzi, ovviamente finché non trovo lo Spass posso utilizzare un po' tutte le armi, però poi nel momento in cui trovo un singolo Spass posso utilizzare solo quello. Credo che ne porterò almeno due nell'inventario, anche se non si può fare ovviamente il double pump, pump pump, ma solo col nuovo cecchino. Me ne porto due perché magari in alcune situazioni preferisco switchare sull'altro pump piuttosto che ricaricare se proprio rimango con zero colpi, quindi direi che due me li porto. Poi probabilmente porterò bunkatili, granate a onda d'urto, cure e cose di questo tipo. Vediamo un pochettino se riusciamo appunto a trovare immediatamente lo Spass e soprattutto se lo riusciamo a trovare immediatamente di una buona rarità. Io ho... ah no, un team forse sta avvenendo ragazze. Sì, sì. Eh, mi sa che sì, mi sa che un team ci sta. Uh, ah no, sì, DMR. Capirai il DMR, mamma mia. Oh, no, questo qua è il marasma. Ho visto i colpi, ma... Ok, no, io no. Un altro marasma. Solo marasma. E dacci uno Spass. Sparano e non siamo noi. Aia. Da dove stanno sparando? Da di là. È una terra. Brava. Ah, eccolo. Nove. Trentasette. Rotto shield. Bravo, bro. Ok, non lo prendo neanche quel marasma. Happy melon. Ma perché mi dà la mappa come se non l'avessi scoperta? La mappa... No, io ce l'ho scoperta. Vabbè, questi i classici bug di Fortnite, quelli belli. E soprattutto perché Betty è ferma. Betty? E niente. Di nuovo? No, ma come? Ma va bene, niente. Betty, ragazzi, ormai è talmente forte che il pad non regge. Ci sono passi qui. Il pad si è emozionato con questo. Ma stai di nuovo picconando come il video di ieri? No, è ferma. Ah, non, sto a volte proprio ferma. Ok, a posto. Io comunque... È strano. Attenzione. Sto arrivando, sto arrivando. Ok, perfetto. Mi devo curare. Oh, però, amica, si trova sto cavolo di spas, eh? Sono difficile a trovare questi spas. Cos'è lì, Blue? Eh, mi sa che è lui. Mi sa che è lui. Sì, è lui, è lui, è lui. Sì. Oh, certo. Due video su due te l'ho trovato, eh. Mamma mia, grazie, amore mio. Allora, tolgo tutte le altre armi e andiamo ad aiutare Marcella. Perfetto. Ma lei è troppo forte, ha già fatto. Perfetto. 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 Questa roccia se ne va. Via. Let's go. E dimmi che... No, esatto. Scivola e spara. Così c'ho un sacco di colpi e non c'ho problemi. Che animo c'è? Non c'ho problemi di colpi. Eh, 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 eh. Non credo ci siano altri team. Ok, perfetto. Qua c'è anche uno shieldone che mi ha rubato Marcella, ma va bene. Lo metterò in conto. Se vuoi glielo do. No, no, no. Non lo voglio più. Non lo voglio più. Lo andrò a cercare da qualche altra parte. Ecco, ci sono dei barilotti. No, aspettami. Non sono full. Ok, perfetto. E più che altro no. Vorrei trovare o un altro pump o comunque dei bunkatili. Non sarebbe male da portarsi dietro dei bunkatilini. Eh, a Betty l'ha fatta proprio abbandonare. Ma te ha crashato il gioco, Betty? Oppure? Credo abbia riavviato la play di nuovo. Ah, provate a riavviare. Mannaggia la miseria. Che peccato. Io vedo ancora il suo nome in partita. Oddio, è vero. Io pure vedo ancora il suo nome in partita. Anch'io. Ma? Che bello. Cioè, che poi adesso dovrebbe essere appunto totalmente fuori. Ok, stanno spawnando qui i boss. Direi che ce li possiamo fare per prenderci principalmente il succhetto. Io li dovrò far fuori. Tra l'altro sono spawnati accanto a lei. Accanto alla povera Betty. Sì, perché io la vedo proprio, cioè, non c'è solo il suo nome, c'è proprio il suo personaggio, la sua skin. Il suo cadavere. Quello è per farci compagnia. Eh, adesso. Adesso. Non c'è più da adesso. Tipo quittata adesso. Va bene. Allora. Però la vedo ancora nell'elenco. No, io solo se apro la mappa. Ok. Ok. L'altro. Eh, questo qua che ha fatto? Ha imparato ad arrampicarsi. No. Non riesco a mirarlo. Mannaggia la miseria. Au. E va a casa. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ok. A posto. Allora. Andiamo ad aprire il bunker. Ci prendiamo i succhi. E poi, come nel video di ieri, andiamo a pushare. Molto, molto, molto aggressive. A far vedere chi comanda. Però ne vorrei trovare un altro. Non so neanche se potenziarlo. Aspettate se lo potenzio al volo, va. Io ho zero col pipà. Eh, io ho 14, ma non te li posso dare perché sto solo con quello. Sennò, praticamente, non posso sparare. E mo' speriamo di trovarne un pochettini qui. E vediamo che succede. Ok, subito il succo, regà, me lo prendo. Vediamo se troviamo lo spasso di una rarità superiore. No, ancora niente. Niente, 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 niente. Vabbè, vabbè, vabbè. Per adesso rimaniamo con lo spasso. Mierina mi ha rubato i succhetti. Non è vero? Attenzione. Si rubano i succhetti a vicenda. Che poi, in realtà, i guanti dell'occultamento, regà, li posso. Usare. Io me li piglio. Li posso utilizzare, ragazzi. Tra l'altro si possono potenziare. Non credo, eh. Non credo si possano. No, non si possono potenziare. È troppo sbroccato, altrimenti. Allora, ci avremo una taglia lì. Io, un saltino, provando a correre tantissimo, ce lo proverei a fare. Magari se riuscissimo... Io l'ho fatta una facciata al muro, io. Perfetto. Lo scavalcava. Perfetto. Bellissimo. Oh, ricarica rapida, fucili pesanti. Perfetto. Mi sono capitati anche tutti e due i perk dei fucili. Così posso tranquillamente utilizzarlo. C'abbiamo quello dei colpi. Che così spammiamo i colpi mentre facciamo semplicemente le nostre scivolatine. E poi le dovremmo ricaricare un po' più velocemente. Attenzione che mi sa che la taglia si è avvicinata a noi. No, è rimasta ferma, mi sa. Sì, è rimasta praticamente ferma da quando ho messo il ping. Che poi, regà, ormai pure le taglie è praticamente impossibile capire dove si muovono, quello che fanno. Difficilissimo. No, no, si sta allontanando, non tenne andare. Eh, la scorta pure è lontanissima. La scorta ormai è sempre lontana. Eccolo, qualcuno qui. Attenzione, vediamo se l'ho hitto. Sì, sì, vai. 24. Madonna, 24 da così lontano. 23. 36. Ok, mi sparano da lontano. Uso questo. Eh, ma aspetta, gli vado a fregare. Divento invisibile. Madonna, quanto ci metta ad attivarsi. Ho craccato quello dietro la roccia. Ok. Che sto sparando a me. Ce n'è un altro qua. Mamma mia, gli ho fatto il giro. Ok. 104. L'ho apparente distrutto. Ha rotto lo shield, ma non riesco più a mirarlo. Let's go. Ed era ovviamente la taglia. Perfetto. E si era allontanata. Bello sto giocando. Eh, no, ma infatti è quello della... Cioè, lo segna troppo il ritardo, mannaggia la miseria. Vabbè. Allora, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ed è fantastico. Io ero a utilizzare i guanti dell'occultamento in situazioni del genere. È troppo divertente. Troppo, 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 troppo divertente. È troppo forti. Uh, mi sparano? Goku, non hai capito con chi è che fare? Craccato. 21. Ok. Aia. Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai. Craccato praticamente one shot pure quello. Ok, arrivo. Utilizzo sempre i guanti. Mi avvicino di nascosto. C'è un altro? Sì. Ma come l'ho lisciato, dai! Ma chi mi ha hitato? Ah, no, non mi hanno hitato. Ok, perfetto. È che gli avevo rotto lo shield. Perfetto. Però non dovrebbero... Mi sparano di qua anche. Sì è il compagnuccio credo 64 Senza mirare da così lontano 72 io Ok mamma mia Verde Cioè ve l'ho detto effettivamente Non c'è più quel colpo devastante Che ci aveva un po' di tempo fa Però porca misera ragazzi non è mica male Cioè che stiamo parlando di uno spas Ormai scarso depotenziato Inutilizzabile cioè In no build è sicuramente più forte Questa versione come avevo già detto nel video di ieri Dove l'abbiamo provato un po' più a 360 gradi Con il double pump insieme Al nuovo cecchino insomma Fucile cecchino chiamatelo come volete quello esplosivo E quindi dicevo che nelle no build È molto più forte questa versione qui Rispetto a quella che conoscevamo dello spas In build non lo so In build potrebbe essere che comunque perde qualcosa Ed effettivamente potrebbe essere Meglio la versione che conoscevamo Noi del capitolo 1 insomma Delle prime stagioni di fortnite C'ho la chiave controllo un po' Eh infatti no anch'io ce n'ho tre Vediamo un attimino Anche se però sto notando che con uno solo si può fare No non ce l'ha però Ci hanno un po' di cose interessanti Se volete vedere E stanno sparando nella giungla ragazze In the jungle In the jungle Vediamo un pochettino se Dall'alto li riusciamo a prendere Anche perché tanto regà con sto pump Pure se ci mettiamo in alto Pure se siamo lontani Qualche colpettino Gli si può tirare molto tranquillamente A proposito prima io il danno l'ho fatto pure senza mirare Da quella distanza Sì no anch'io anch'io senza mirare Eccone uno qua sotto 38 però mirando 33 rotto shield 56 mi sembra abbastanza stunnato Ok E non era solo Sì infatti non so neanche se Può essere una buona idea salirci Dipende da quanta gente ci va Più che altro vorrei capire se questo Aveva dei compagni Ma vabbè E a me mi ha segnato effettivamente Sei passi? Eh sì vabbè Vabbè allora io Sì qua sotto proprio 26 Che comunque regà non è 29 Sì Non sono pochi sti danni che state leggendo eh Di nuovo Cioè regà non è poco eh Cioè sti danni che state vedendo Non sono pochi per niente Per un pump così da Da così lontano Va bene Ah continuano a sparare qui verso rovine Andrei a dare un'occhiata Sì Anche perché stanno sparando a noi Ah ho sparato a me Eh sì 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 Ok questo qui diventa invisibile Ah no questo è il boss È il boss Eh sì occhio Io andrei direttamente da quelli laggiù È craccato Sì sì sono invisibile Non mi possono vedere No ragazzi È troppo forte Da avere i guanti così Ma questo da dove ci sta Oddio 73 rotto shield Mamma mia 77 73 30 No questo sta per prendere drift Non glielo facciamo prendere Eh l'ho lisciato Vabbè mamma mia che lisci Però che sto facendo ogni tanto Hanno due team diversi Perché questo è ancora a terra Eh ok Sì pure di qua ce n'è uno ancora a terra Quindi occhio Dobbiamo stare molto attenti Perfetto Oh mio dio Da dove Ah dalla sopra Dalla sopra C'è da qua il bot Eh Eh sì però occhio è lì sopra eh Allora Vado con Il guanti Vado con i guanti Che non mi vede Ma questo ci sta sparata Qua sotto però Sì E io non ho Come coprirmi C'è un sacco di gente 148 Questo è presente morto Ok infatti Stava scappando Qui questo qua Che vuole fare Uno è qua su E uno è qua sotto Puscia da dietro Penso un attimino A questo qua sotto Se ci riesco Oddio Ho pure il succo Eh Io sto spaccando uno qua Eh Lascialo sta Lascialo sta Marcello Arrivo 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 a prendervi No C'è il boss Da dietro Che Più che altro Eh sì Ci spara il boss Mentre mi resta Arrivo No 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 Ma maledetto il boss Le api Ma non ci posso credere Ho provato ma Sì Vabbè ragazzi Mancava pochissimo Eh in realtà È quasi meglio Vabbè no Provo a restarti così No regà Comunque il boss così Cioè con le api Oh fratelli Hai rotto Morca miseria Sì Eh ho capito Cioè Quasi quasi preferisco Restarvi Ecco Prendo le chiavi E vi resto da qualche altra parte Cioè le cose prendo Cioè regà Ma il boss Ma che ha fatto Ma perché è così Rompiscatole Oh mio dio No ma questo è qualcun altro Sì sì C'erano due team Sul boss C'era un sacco di gente Mamma mia regà Ma in che senso In che senso Ah il parco del fango Però Sì 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 Eh infatti Non li vorrei sprecare i succhi Il problema Sono i loot Io volevo lo loot Cioè vi volevo ributtare lì Eh Era pieno di succhetti Eh Eh Dovremmo tornare velocemente Sull'isola Non mi sono fidato ad andare Perché sull'isola Se c'era gente Mi Andrà sicuramente Un sacco di gioco Eh no ma poi eravamo tutti lì Quindi niente Sono dovuto tornare di qua Ciao chicca Mi ha segnato passi Non so se per via di un bug qualcosa O me li son sognati io No mi sembri Me li son sognati io No 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 Sparano di qua No spaccano di qua Oh mio dio No 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 ma in che senso Ma con che arma Guardalo No questo è un bot regà È un bot un pochino troppo forte Cioè è one shot Ma sì ma l'ho lasciato one shot Solo non mi entrava l'ultima hit Vaffan bene va Ma con che arma Ma con Con la mitraglietta questa qui blu Incredibile Ah c'è un team Ok una terra 69 un altro C'hanno i succhi mi sa No non c'hanno i succhi La clan ha rotto shield Ok Mamma mia oh Mamma mia Eh sì almeno quello Solo che però peccato per i succhetti E io ho finito i bunkati lì così Eh il problema è che la safe è qui Non ci viene neanche più andare a lootare di là Che situazioncina Che situazioncina ragazzi Brutto 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 Mo sarà abbastanza Abbastanza difficile gestire Ah c'è gente ancora 83 36 Ok Mamma mia Devo ricaricare Devo sempre ricaricare E qua sennò ho quattro colpi in canna No Da dietro Sì 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 dovrebbero essere Sì dovrebbero essere compagni di questo Hanno triggerato il bot No oddio Aia No è dietro la roccia Sì dietro la roccia Dietro la roccia E qua si pia Ah Ah Ho fatto 160 Eh No 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 un altro team ancora Sì Stanno lì sopra Mamma mia Con Transformers questo Vabbè ho capito ma che partita è Cioè scusate ma io solo col pump che fa Cioè guardali sono in 5 pure con il bot Sono in 5 anche con il bot Allora fermi tutti Devo andare a prendere almeno la scheda di Serena Devo andare a prendere almeno la scheda di Serena Allora fermi tutti Eh sì già mi ha finito di fare lo scatto No sta arrivando Eh sì sì lo so Ok Ah ma c'è solo questo come reboot però No ce n'è uno nella prossima safe Clamorosamente incredibile Eh ma siamo 3 team Uno dei team è da 4 Non Allora se fosse stata una partita normale Che poteva avere altro loot Ci avrei provato con grande Non ci posso credere Ma quanti sono? Ma che incerto Eh sì 4 contro 1 infatti 4 contro 1 adesso Non ci posso credere Non ci posso credere Oh mio dio Eh eh Io mo ci provo Appena posso Che parte la tempesta ci provo Il problema è che se esco adesso non fa Cioè muoio Se esco adesso muoio Il problema è che non ho neanche bunkatili Mi devo mettere il più vicino possibile Cosicché appena posso andarci inizio Però il problema è che tanto stare solo con la pistolina Però ci si prova Almeno siamo in due Non siamo da soli Oh mio dio Mamma mia Eh mo spero che questi qua non rompano le scatole Cosa che ovviamente faranno Che ansia regà Ti conviene No non te lo togli è vero il guanto se resti Non lo so Però lo volevo usare anch'io Perché almeno non sanno il punto preciso in cui stai Sì 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 lo toglie L'altra volta mi sa che provo Ele O Ele o Betty Lo togli mi sa Ok ok Perché altro avevano Transformers Il canone di Transformers Eh il problema è quello Però che famo Oh Se me lo togliere ricomincia pure Eh ragazzi Eh ragazzi Questi secondo me stavano trollando però È strano No eh L'abbiano pushato Eh E mo Avevi succhi Con quel cannone Dai Ma com'è fatta a dettarmi col cannone Ma poi quanto mi ha tolto Oh ma balla pure Ma fa pure il loser Non ci posso credere È un branco di Non lo dico Allora ragazzi Decidete voi Come completare la frase Di quel team lì Che ci ha ucciso L'ultimo Tra l'altro ce la stavamo anche per fare Perché Praticamente Se è quello lì che ci ha Distrutto con l'arma Di Transformers L'avessi ucciso Un colpo prima Perché quello era rimasto One shot E non voleva morire Probabilmente Ce l'avremmo anche fatta Però ci riproviamo Ovviamente Stesse regole di primo Utilizzo un po' le armi che voglio Poi appena trovo lo spasso Posso utilizzare solo quello Mi sa c'è solo un team Sì Però un team ci sta Sì Sì Allora vediamo un attimino Uh l'ho trovato L'ho già trovato Ammazza Oddio per lo start Avrei quasi preferito di no In realtà Te lo stavo per dire Che forse era meglio di no Eh vabbè Ok meno male Ma che stava Qualche missione C'è qualche Ah no Ha aperto qui Che ha trovato Ah no Mitraglietta combattimento Eh però pure gli scildini Ci sono dei Buncatini Allora Non ho neanche Ok Non l'avevo più visto Regà Mi faccio Scildini e scildone C'è una cassaforte qua Ok No no Vabbè vabbè Allora Mi faccio scildini Scildone E poi cerchiamo di capire Dove sono questi Stanno lì dentro amore Uno morto Ok Due morti Ok Un altro spas Lol Tieni amore lo scildone per te Ce l'ho ce l'ho amore Ok Allora me lo ripiglio Ah ma chi lo trova Ah no Non è lo spas È il coso Madonna Sembra proprio un fuzile a pompa Quel coso lì È incredibile Sono i bunkatini Ok perfetto Grazie Marcemi Vado a prendere anche le granate a onda d'urto Ovviamente ci portiamo sempre sta robettina qui E se troviamo anche i guanti in realtà che abbiamo visto prima non essere male Un altro Niente però tutti i verdi li stavamo trovati stavolta mannaggia la miseria Allora abbiamo visto ragazzi che dalla bandiera può uscire lo spas E se poco poco magari il loot è viola Quello che esce direttamente dalla bandiera Potrebbe darcelo viola Cioè why not Non mi farebbe così schifo insomma Col cavolo Non ci ha dato proprio neanche lo spas Va bene Va bene Va bene Va bene Non ti preoccupare fortnite Non ci siamo offesi O forse sì È un po' sì Ecco A posto Io direi di sì Allora qui a bastione stanno anche esponando i boss Potrebbe essere interessante prendersi comunque almeno i succhi Ah Perché è esponata così la vita? Per un attimo ho visto la vita del boss Non ho capito per quale motivo Ma qui mi sa che non hanno lootato Mi sa Mi sa che non c'è Ecco l'oddio hanno fatto prendere un colpo Ok Ok Uh ho visto anche i guanti Ok Perfetto Oh Eh da sto colpo Va bene Allora Ho visto anche i guanti ragazzi E me li prendo Sinceramente Così facciamo praticamente lo stesso loot di prima Adesso andiamo a prendere i succhetti E mi potenzio Ovviamente lo spas Così almeno ce l'abbiamo Bello potente Facciamo una cosa del genere E via Oh E poi magari lo spas potrebbe uscire anche da qui eh Ma quando mai Ma quando mai Ma quando mai È frittella Ma poi è frittella Dentro Dentro sti bunker È inutile Perché il frittella Te lo dà già mitico Praticamente Quindi voglio dire Ci apriamo la cassaforte Così poi ci possiamo andare a potenziare Il Il signorino Eh raccoglio Lo stavamo lasciando Grazie ragazze Grazie 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 mille Perfetto Che poi pure qua Do stava Mi sa che stava di qua Stava di qua Di qua Di qua Non trovo Non trovo il potenziometro Lì Me lo ricordo La pistola La pistola La pistola razzi Ok Se pinga Perché stava a vedere Che la pistola razzi A volte non pinga Uno l'ho spaccato Attento Attento amore Attento amore Non pushare così Ok C'è questo qua sopra Ma questo non muore Ah ho visto Gli ha derrotto lo shield Eh appunto C'è Non moriva Mamma mia Comunque Cioè O eccolo qua L'ultimo Dalla destra Ce ne stanno altri Ok Perfetto Eh sì Altri 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 Sì 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 Copritevi E curatevi Copritevi E curatevi Sempre Ma Non ho capito Però questi qua Da dove stanno arrivando Ragazze Da qui venivano Ok Sì però Non li vedo Mamma mia Anche loro Con l'arma dei trasformi Eh sì No ma ormai Stanno tutti Con l'arma dei trasformi Ormer maledetti Allora Vediamo dove va la tempesta Oh mio dio Che infarto Non so Vogliamo provare a salire Ormai che sta qui Ok Va bene Dai così Proviamo Proviamo Dai Signor capitano Sì signor capitano Va bene Signora capitano Non ho sentito Non ho sentito bene Sì signor capitano Ovviamente Le zip stanno tutte Dall'altra parte Oh zip 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 Arrivano da di qua 93 102 E one shot Praticamente Ok Oral Eh sì Questo come è salito L'abbiamo Praticamente Smaciullato Mamma mia Ok Va bene Ora vediamo Appena Completiamo La conquista Qui comunque Siamo 29 Non tantissimi Ma neanche pochi Potrebbe essere Un endgame Molto interessante Allora io direi Che rimaniamo Qua sopra Finché Non li sprechiamo No per adesso Non li sprechiamo Aspettiamo qui sopra Finché non si chiude la tempesta E dopodiché Ci muoviamo Dove va la safe Anche perché adesso Non saprei neanche Verso dove muovermi Che poi magari La tempesta Sta dall'altra La safe Sta dall'altra parte E poi qua sotto Ci avremo anche Gli altri boss Per prendere altri Succhetti ancora Rischiamo Ah c'è qualcuno Che sta andando Dai boss Tra l'altro Quindi mo vediamo Se la safe è qui Potremmo anche pensare Di pusharlo Betty ha aperto Il bunker Sì il bunker sotto Sì 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 Però è mezzo vuoto Perché sto sentendo Qualcuno che prende danno Non lo so Lo sapete Però potremmo Ah perché ho tirato il fuoco Ma chi è che sta Prendendo danno dal fuoco Eh lì Quello là Era andato No ho terrato uno Ma Ma era quello Che avevo visto io Eccolo C'è qualcuno Eh c'è qualcun altro C'è qualcun altro Io devi andare Facciamoceli Sì 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 Ma com'è Non mi ricordo No a parte il fuoco È troppo forte Va bene abbiamo già parlato E ti è nato le luciole Tre quarti d'ora fa Luce è rimasto lì Fino a morire Va bene No l'ho lisciato No sono in due Sono in due Mamma mia 135 Comunque Ce n'è un altro Qua sotto Mamma mia Questo mi sa L'ha già rialzato Tra l'altro eh Stanno sparando Verso di là Però non so Neanche se ci convenga Risalire sull'isola Ragazzi Era qui questa casetta È morto qui Da solo Bruciato dalla casetta Sì ma secondo me Non se ne è reso Proprio neanche conto Vabbè tra l'altro C'aveva una skinno G ci aveva Tra l'altro Vabbè Allora Io direi di risalire Sull'isola ragazzi Cioè di stare Belle tranquille Su Non ci ammazza Nessuno Teniamo sotto Contrò la situazione E appena si richiude Anche la prossima Tempesta Oh Riftano Siamo noi Io io Ok perfetto Betty Così poi Eh ci stanno Bunkatili qua Eh io ce n'ho Già quattro Appena Appena Vediamo Che la tempesta Si chiude Andiamo direttamente In safe Prendiamo il punto Migliore Magari ci piazziamo Di Bunkatili Eh c'è gente qua sotto Stanno lutando Tutto quello Che abbiamo lasciato noi Non so se gli riuscite a sparare Voi ovviamente no Ok Sono dei bot Sono dei bot Ok ci hanno pingato Si stanno usando la cosa Ok Vediamo dove va la tempesta Questo è bianco Quello che sta dentro qui È bianco Ok In realtà non lo so C'è uno dietro l'albero Che sta praticamente fermo Si Non so se ci convenga Pusharli Più che altro Forse ci viene da tipo Qua sopra Oh occhio occhio Vai tanto ci abbiamo Tutti i succhi del mondo Vali a recuperare dentro Poi eh Betty Stanno direttamente Dentro la casa La lasciati serena Ok Eh Tra 30 secondi parte 32 Lo sai che non so Se ci convenga andare subito Per prendere subito Posizione lì su 21 21 21 Se ci arriviamo tra l'altro Eh amore questi ci sparano però 23 23 Però sta per partire la tempesta Quindi o li pushiamo O ce ne andiamo Una delle due cose Ah li stanno pushando da lì Quindi io direi andiamo 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 Cioè nel senso non pushiamo Andiamocene proprio direttamente in safe Dov'è l'altra Dov'è l'altra jump Ah l'altra è di qua Vabbè È ancora più lontana Vabbè Eh non ci arriveremo mai In safe Mi sa che ci dobbiamo fermare Tipo sopra questo tempio Che è in safe Però sarei voluto andare Un po' più profondo Però andiamo tutti lì Andiamo tutti lì Eh sì sì Lasciamoli stare Non ci dividiamo No no sotto il tempio Ah Eh vabbè 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 Noi saliamo sopra Siamo qua sopra Eccolo Ce n'è uno qua dietro Vai vai Perfetto C'è gente anche là dentro Non ci dividiamo ragazzi Stiamo belle Compatte qua sopra Traccato Perfetto Atterrato Perfetto Sì molti stanno qui fuori Eh stanno Stanno arrivando tutti da qui Anche da dietro Anche da di qua Sì La safe verso Ah c'è anche gente là sopra C'è uno qua Oh l'è caduto Ma quello l'è caduto Ha preso danno C'è uno qua sotto Io rimarrò con Tre kill Ma L'altro importante è vincere L'anano Bravissima Ma ha atterrato uno Non so come Cinque a quello Lì giù Regà Ma com'è possibile Passi qui Stanno pallonando Sull'albero Sì Passi anche qua sotto Ci stanno pingando Sì Non so se ci convenga Pushare Quelli Aia Quelli che stanno qua sotto Ha dato una kill Mi sa che ci conviene Pushare Quelli che stanno qua sotto E andare direttamente in safe Ragazzi Ok bravissima Morto Che c'ha Al coso No ok Pensavo ci avesse Al coso di trasformer Ok andiamo Diritte dritte 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 In safe Perché dobbiamo salire Qua sopra Tanto questi qua Se non si muovono Muoiono tutti di tempesta Perché questa qua È quella maledetta Anzi già quella prima Era quella maledetta Che in due secondi Ci si muore Facciamo così Così E andiamo a prendere Il pezzo migliore Ok siamo Noi quattro E altri due team Quindi o 4-3-1 O 4-2-2 E occhio perché mi sa Che ho letto un po' di nomi Che hanno fatto una marea di kill Degli avversari Quindi dobbiamo stare Stra mega Concentrate Sparano Mi sa sopra gli alberi Lì giù Eh saranno quelli Che erano saliti Sugli alberi prima Eh probabile Siamo 4 contro 3 4 contro 3 Eh ma mo questi Si devono spostare Stanno ributtando Stanno ributtando Porca miseria Eh dovremmo provare Ad andare Dovremmo salire qua sopra Eh hanno restato La tempesta è inghiottito Eh perché l'ha toccato La tempesta Per fare sto resto Eh sì Ma neanche poco Hanno preso la zip Ah non è Non siete voi Cioè Rotto lo shield No dai come non è morto No 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 Eh Sono dovuto scappare di qua Io pensavo fosse là sopra con me ragazze Eh non sappiamo come salire Eh c'era il fungo C'era Stanno là sopra Loro occhio Betty ti è sceso uno lì Ah Che ti ho fatto di male Ok gli ho rotto lo shield A terra Mi sono messo il bunkatile No no Il fango Il fango maledetto No A terra È rimasto solo quello qua in teoria Ok se stiamo vicine vicine e compatte Si può fare Questo sta provando a non farmi restare Betty Boh Eccolo 63 Rotto shield Let's go ragazze Bravissime Meno male Lì io pensavo fosse salite con me col fungo Stavo lì Me sono ritrovato con i tre So scappato di brutto con i impulsi Non trovavo il fungo Ok ce l'abbiamo fatta È stato veramente un parto Partite davvero difficili Tra l'altro abbiamo fatto anche un paio di fail che abbiamo tagliato Ce l'abbiamo fatta però appunto Come vi dicevo durante le partite Lo spasso in questa nuova versione per le no build Forse è più forte rispetto a quella che c'era un tempo Per le build lo andremo a provare meglio magari nei prossimi giorni Vi ricordo ovviamente di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato al negozio oggetti di fortnite Fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Lascia un bel mi piace Per noi è tutto ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzuali